Sì, è un provvedimento che non riteniamo come divisibile perché secondo noi laddove si può lavorare, laddove le aziende hanno ancora ordini, secondo noi sarebbe giusto che lavorassero, proprio per salvaguardare la continuità operativa. Non si sa quanto dura questa emergenza, quindi ci aspettiamo che quando tutto questo sarà finito alcune aziende saranno in ginocchio, avranno tantissime difficoltà e quindi non vediamo perché laddove si può, nel rispetto di tutte le normative sulla sicurezza, nel rispetto dei limiti dello spostamento, utilizzando tutto ciò che vogliamo, alternanza, smart working, concedere le ferie, tutto quello che è possibile e con il rispetto di tutto ciò non vediamo perché non si debba lavorare.